Le telecamere di Battipaglia 1929 oggi perlustrano un po' con la città, ci troviamo in via Armando Diaz e come potete ben vedere dalle nostre immagini c'è un residuato di suppellettili da cucina e sono qui in stata da oltre dieci giorni. Abbiamo trovato anche vicino un biglietto che ho scritto per Alba Nuova, ora non sappiamo se è stata fatta la richiesta per venirli a prendere o meglio comunque è uno sconcio vedere queste cose. Noi nella solita nostra critica costruttiva segnaliamo la cosa affinché Alba intervenga e levi questo sconcio.